Sì, Comi, intuffo per Rolando, Rolando suose quarti, l'imbocata per Panico, Panico, Zanellati para, poi Comi a porta vuota, Ereval Godel 1-0, la sblocca, alti in Tulesio minuto, Comi, Provercelli vantaggio. Ci sono le proteste da parte dei giocatori della Gianna che vorrebbero la posizione di offside di Panico, sullo suggerimento di Rolando, la grande parte di Zanellati e poi a porta completamente sguarnita, Comi non poteva sbagliare.